Ciao a tutti da Joker Game Ho appena finito una consegna Sto guardando gli ultimi due Mi sono rimasti da consegnare la giornata di oggi Qua è 210 al massimo Non so neanche se farla fuori Vediamo Devo decidere Vediamo un attimo fuori 3.15 Però bisogna vedere cosa mi dà da qua Dai tempo dai 3.15 via 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 Tentiamo tentiamo Se mi dà le moto almeno Forse qui c'ho le moto Ecco Metti giù metti giù Mi fai perdere tempo Allora mi devo ricordare delle cose Mi ha dato le moto Mi sto divertendo La Rockstar mi vede Che io lo so Mi segue ogni giorno È come un'ombra Non la vedo ma lo so Lo sento Allora lo sparro Iniziamo a mandarlo via Mannaggia Devo tenerlo premuto Sto quello qui Però potevano anche semplificare delle cose Secondo me Ok Questa è andata Abbassiamoci Sono bello basso Per recuperare Questa è solo una consegna Quindi Tutto a manetta Beh con le moto Secondo me è la migliore Ma prendi poco E la migliore è questa Le altre sono faticose Ma ci arrivi a farle Però In questa zona qui È un rischio Venire da queste parti Quando c'è anche un milione In ballo Ho preferito prendere Ho visto l'ultimo Il camion Sì sì lo so Perché io mi sto concentrando Che voglio andare con la moto Per tagliare dentro Con la moto Lo posso fare Dov'è il camion Ecco Dove l'ha messo? O c'ho Corri Ok La prima è andata 15 secondi porca miseria dai 15 secondi 7 6 5 4 3 2 1 0 dai dai mi sto sparando mi sono abbassato per prendere velocità sicuramente ci sarà un mezzo molto più veloce ma non è come lo sparro secondo me che te lo mette proprio a pochi metri da te potrei sbagliarmi dicendo questa cosa ma io ne ho visto tutto e sono sicuro che lo sparro è quello più vicino al giocatore sto cercando di di atterrare non fa niente se becco palio lo sparco tutto non fa niente mi interessa la moto si è rotto vediamo si però lo devi sempre mandare se no non te lo dai ah niente è andato sparro fra un minuto e 39 e si è vero si è sfasciato quando mi lancio non fa niente Grazie a tutti. 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 Ho messo il traffico al massimo, tutto come prima, tutto. Adesso siamo già al mattino presto. Vediamo, vediamo che ora è 6 e mezza e iniziano a uscire tutte le macchine. Speravo iniziano a uscire. E' a uscire a uscire a uscire. Non è mai come lo sparo, è vero? Ce l'hai sempre a uscire, ce l'hai sempre a uscire, questo elicottero non ti tradirà mai. Veramente. E' un'altra, c'è anche a uscire, ce l'hai sempre a uscire, a uscire, a uscire a uscire a uscire, Faccio una virata perché è proprio dentro lì, è proprio qua sotto la moto, ho 16 minuti, eccola, ok, e poi c'ho la metanfetamina, chissà quanto becco lì, ecco, 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 ecco. Comunque oggi sto andando alla grande, sto guadagnando ancora parecchio, non so quanto, però ho speso ancora un milione e mezzo e nonostante sto, stavo recuperando per un grosso camion che ho messo dentro lì, però già l'ho recuperato tutti, tutti i soldi, e quando il magazzino lì del nightclub è proprio al massimo, farò il video, chissà se mi fa guadagnare veramente un milione e otto, o forse anche due milioni, non lo so ancora, perché io ho fatto delle modifiche, ho ascoltato X Willy, lo dico, X Willy la sua strategia, però lui la usa online, quando ci sono però i business da prendere, io l'ho usata ugualmente qui, e poi però il resto è roba mia personale sui, 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 sui tecnici dove dovevo lavorare per fare più, più veloce la lavorazione, e già sono già arrivato, guarda, un chilometro e mezzo neanche, beh se ti danno, se ci fai, se c'erano in tutte le moto, ad esempio, ma non te lo fai, ti danno, ti dà le cose che ogni magazzino ti dà la sua, me le devo studiare comunque, devo riuscire a portargli via un milione, a consegna, ok siamo arrivati, 3,15 presi, eccoci qua, anche questa è andata bene, al prossimo video, ciao a tutti,